Conosci Firenze. Un nuovo e appassionante racconto insieme a noi. Plautilla Nelli, la prima pittrice fiorentina conosciuta al secolo come Polissena dei Nelli, è stata una pittrice e religiosa italiana vissuta nel XVI secolo. Nata a Firenze nel 1524 e entrata nel convento dominicano di Santa Caterina da Siena, la sua figura è stata significativa nell'ambiente artistico del suo tempo. Nata come Polissena Margherita nella famiglia fiorentina dei Nelli, Plautilla fu battezzata il 29 gennaio 1525. Dopo la morte della madre e il secondo matrimonio del padre, Piero di Luca Nelli, un mercante, entrò nell'adolescenza nel convento dominicano di Santa Caterina da Siena a Firenze, assumendo il nome di Suor Plautilla. Vi aspetto la prossima volta per un altro racconto.